La partnership Sdaboconi Biogen è nata diversi anni fa da una considerazione abbastanza semplice. Ai problemi complessi bisogna dare risposte adeguate, noi siamo due partner con competenze complementarie, il trattamento dei pazienti affetti da patologie neurologiche è un trattamento che richiede grande attenzione e grande innovazione, non solo innovazione clinica di prodotto ma anche innovazione di servizio e innovazione organizzativa. Lo scopo della partnership è esattamente quella di offrire ai pazienti che hanno malattie neurologiche un approccio integrato che permetta loro di avere il meglio delle cure organizzate nel miglior modo possibile.